L'uomo dovrebbe vestirsi come tutte le stati, nel senso con una bella giacca leggera che non si stropiccia, consiglio le lane perché i cotoni non passano l'aria, non si stropicciano, mentre la giacca in lana è molto più traspirante, quindi respira. Cosa non mettere mai? Cercare di essere se stessi comunque, non dovete mettere per forza una giacca, però cercate di essere voi stessi. Eleganti, si può essere eleganti anche con un jeans e una camicia, non una t-shirt, poi dipende anche dall'età. Per i ragazzi fino ai 25 anni, 30, se sei fisicato, se no è meglio che ti metti una camicia e ti copri, sei molto più elegante.